Un riferimento al passato, alla figura del dottor Francesco Peloni e a Egidio Tarantola recentemente scomparso prima di proiettarsi nel futuro di un'azienda la cui immagine si identifica fortemente con il proprio territorio di appartenenza. Braulio entra così nella grande famiglia di Campari con un evento nella sede storica di Via Roma nel cuore di Bormio al quale hanno partecipato stamattina autorità, istituzioni e vertici societari. Sul tavolo insieme al liquore di montagna per eccellenza i progetti per lo sviluppo e la crescita del marchio le cui sorti, nonostante il nuovo assetto, restano affidate alla famiglia Tarantola. La tradizione continua e con Campari è una collaborazione. Io sarò sempre responsabile della produzione dell'Amaro Braulio che avviene e verrà a Bormio e quindi la collaborazione è proprio per cercare di far conoscere Braulio, la sua tradizione, la sua storia non solo in ambito locale o in certe zone dell'Italia ma in tutta Italia prima e anche all'estero poi. Ma cosa cambierà con l'ingresso di Braulio nel gruppo Campari? Sulle ricadute in termini occupazionali i vertici non si sbilanciano lasciando parlare i numeri. Solo negli ultimi 12 mesi il sito produttivo di Bormio è passato da 4.800 a 6.500 metri quadrati di superficie. Campari Group, dal canto suo, è fra i primi al mondo e detiene ben 50 marchi impiegando circa 4.000 persone. Questo investimento fatto da Campari è un investimento che ci rende molto fieri perché stiamo investendo su un'eccellenza italiana. Il presupposto anche per fare degli interventi così importanti di ampliamento, stiamo parlando di 1.600 metri quadrati, aggiuntivi si spiegano con il successo di un marchio che da 140 anni non è mai cambiato a livello di credibilità verso i consumatori. Quindi l'obiettivo del gruppo Campari è stato mantenere veramente intatta la storia, l'heritage di questa marca facendo un intervento importantissimo di ampliamento ma rispettando tutte le fasi di preparazione storica per cui assaggiare oggi un Braulio è come Beagolo 140 anni fa. La strada è tracciata e gli obiettivi fissati sembra una portata di mano. Del resto la ricetta storica della Marono smette di convincere, come dimostrato ancora una volta dal gradimento del brindisi che ha concluso il convivio inaugurale.